Avevano svaliggiato l'apitazione di un imprenditore a Vignola, in provincia di Modena, rubando 65.000 euro in contanti e alcuni gioielli e le chiavi di un'auto, poi a bordo di un Audi R6 con targa rubata, imboccarono l'autostrada a 15 Parma-La Spezia. Qua però vennero intercettati da una pattuglia dei carabinieri di Lucca, che li inseguì e bloccò a massa con l'ausilio dei militari del comando a Puano. Fu così che venne interrotta l'attività criminale di una banda composta da quattro elementi di origine albanese, che stando a quanto emerso dalle indagini, da mesi compiva quotidianamente furti in abitazioni di tutto il nord-ovest, compresa la provincia di Lucca, dove per un periodo a Viareggio avevano la base operativa. Durante la perquisizione domiciliare è stata rinvenuta numerosa rifurtiva, tra cui quella sottratta all'imprenditore di Vignola e numerosi attrezzi da scasso, comprese le ricce trasmittenti e telefoni cellulari. Oltre a questo, anche altri gioielli, tra cui una fede rubata in un appartamento di Lucca alcuni giorni prima è riconosciuta dal legittimo proprietario. I fatti risalgono al 12 settembre scorso, ma adesso il GIP di Modena ha incaricato quello di massa di applicare la misura di custodia cautelare in carcere per i tre uomini arrestati, mentre il quarto componente della banda è tuttora latitante.